Ancora superba. La mia malattia si chiama DOC. Si scioglie in disturbo ossessivo compulsivo. La mia mente, ancora superba nella sua potenza, spesso vacilla oppure persiste in un'idea che poi cambia e poi torna e poi cambia. Non mi parlate delle cure infinite. Non mi parlate delle figuracce col falegname, col piastrellista, con i fornitori, con gli amici, con le persone che aspettano le mie decisioni, che cambiano di continuo, ansiogene e intrusive. Ieri pomeriggio avevo preso alla fine una decisione. Quant'era bella come una fata e felice della mia vittoria sono andato a dormire. Ma stamattina il dubbio mi ha versato veleno nella mente e basta. Ho cambiato idea. Io soffro e la gente non ci crede. Mi vede sano e forte. Non sa che le decisioni che prendo, che cambio, che non prendo e che prendo di nuovo. Sono le streghe che mi rubano l'anima e la vita. Commento. E se la tua malattia non fosse una malattia, ma una limitazione spirituale? Allora, se la vivi, non puoi decidere di non trascenderla. Allora, se la vivi, non ci crede.